Elio Vittorini si celebra il 23esimo premio letterario nazionale. E' iniziato il conto alla rovescia in vista dell'appuntamento con il premio letterario nazionale Elio Vittorini, giunto quest'anno alla 23esima edizione con la quinta edizione del premio per l'editoria indipendente Arnaldo Lombardi. Definito il programma della settimana vittoriniana che inizierà mercoledì 4 settembre e si concluderà sabato 7 settembre con l'attesa al cerimone di consegna dei riconoscimenti che anche quest'anno si svolgerà al Teatro Massimo Città di Siracusa. Il premio letterario nazionale Elio Vittorini è promosso dall'Associazione Culturale Vittorini Quasimodo con l'assessorato alla cultura della città di Siracusa in collaborazione con la Fondazione INDE, il Libro Consorcio Comunale di Siracusa e col patrocinio dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Assai articolato il programma si inizierà mercoledì 4 settembre alle 18 nella biblioteca Museo Elio Vittorini con conversazione in ortigia, un confronto a più voci su ibridismo e letteratura, Vittorini tra dialetto e lingua. Giovedì 5 settembre alle 18 all'Urban Center tornerà l'ormai tradizionale e assai atteso appuntamento con il processo Vittorini che quest'anno avrà come capo di imputazione suonare il piffero per la rivoluzione, Vittorini contro Togliatti che porterà accusa e difesa a confrontarsi su una delle più accese polemiche che rimbalzò tra il 1946 e il 1947 tra le pagine di Rinascita e quelle del Politecnico. Venerdì 6 settembre sempre all'Urban Center alle 18 spazio e all'intervista ai tre autori finalisti Simona Loiacono con Verdi Mura, guanda editrice, Chiara Mezzalama con Le nostre perdute foreste edizione E.O. e Alberto Riva con L'ultima estate a Roccamare, Neri Pozza. La cerimonia conclusiva con la premiazione dell'opera vincitrice del 23esimo premio letterario nazionale Elio Vittorini e del suo autore o autrice si svolgerà sabato 7 settembre a partire dall'evento al Teatro Massimo Città di Siracusa.